Dopo cinque mesi tornano sotto la soglia psicologica dei 10.000 i casi covid attualmente positivi in Abruzzo. Secondo l'ultimo bollettino regionale sono 9.896 cioè 336 in meno rispetto a ieri. Il dato aveva superato le 10.000 unità il 10 novembre e da allora non era mai più sceso al di sotto di quella soglia. I nuovi pazienti covid invece sono 210 emersi dall'analisi di 5.316 tamponi molecolari e di 1.624 antigenici. Il tasso di positività complessivo è al 3%. Tra le notizie positive la riduzione dei ricoveri che passano dai 593 di ieri ai 582 di oggi. 525 pazienti meno 12 sono assistiti in area medica mentre 57 più uno con quattro nuovi accessi rispetto a ieri in terapia intensiva. Altri 9.314 meno 325 rispetto alle ultime 24 ore si trovano in isolamento domiciliare. Nelle ultime ore sono 17 i decessi, 9 dei quali relativi ai giorni scorsi e riguardano persone di età compresa fra i 56 e i 99 anni. L'Abruzzo nonostante i dati in netto miglioramento resta sempre in zona arancione per effetto delle disposizioni del governo Draghi. La situazione potrebbe cambiare a fine aprile quando dovrebbe essere varato il nuovo DPCM. Grazie. Grazie.